La deprima del nostro telegiornale, una edizione ovviamente quasi del tutto dedicata alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre, le urne si sono giuse oggi alle 15, a Sarara Fontana è stata eletta una donna, Irene Iacolo, il nuovo sindaco del comune collinare che ha battuto Cesare Mattere a Napoli invece si continua a scrutinare le schede e avanti il candidato del centro-sinistra dei 5 Stelle il professor Manfredi che mentre andiamo in onda in diretta sta effettuando una conferenza stampa però a Napoli ha vinto l'assenzionismo, ha votato appena il 47% degli eventi diritti e poi la pagina sportiva del lunedì con la gara della domenica dell'ischia che in eccellenza è stata sconfitta dal Pozzuoli per 2 a 1, di questo e di altro ancora ci occuperemo tra pochissimo come sempre dopo la pubblicità Mille Molliche, artigiani del gusto Mille Molliche, dove la passione per la cucina incontra l'esperienza dei maestri delle arti bianche il risultato? Pietanze dal gusto inconfondibile e prodotti assolutamente genuini da noi tutti gli ingredienti sono sapientemente selezionati per il processo di lievitazione usiamo il Criscito la magica pasta madre che rende i nostri prodotti da forno molto digeribili e particolarmente buoni da Mille Molliche, trovi pane, pane speciale, pizze, cornetti, dolci ma anche primi, secondi, contorni e sfizioserie da asporto l'arte del mangiar bene Mille Molliche, artigiani del gusto il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati per la salute dei nostri pazienti ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione dagli altissimi standard tecnologici con riduzione delle dosi di radiazioni il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia Ecorad è in rione Genala 16 a Forio telefono 081 99 71 82 Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani La campagna riparte e noi giovani abbiamo il dovere di metterci la vita in mano proseguiamo col distanziamento mettiamoci la mascherina e soprattutto vacciniamoci tutti per noi e per le persone che amiamo ancora un po' di sacrificio per tornare a sognare insieme più vaccini, più vicini La ditta alla raspata porta nel tuo locale ghiaccio purificato ad uso alimentare sciogli ogni dubbio sul ghiaccio che bevi scegli un prodotto microbiologicamente puro in odore e in sapore ghiaccio secco a pellets, cubetti troncotronici ghiaccio a blocco per ristoranti e bar ma anche per barche, campeggi, party e catering per un brivido di piacere se cerchi la qualità purificata sotto sotto troverai la professionalità firmata la raspata la raspata gli uomini del freddo sempre al tuo fianco ischia, il mare, le terme, la natura ad ischia nel centro a due passi dal porto e dal mare l'hotel Re Ferdinando 4 stelle leisure ti offre un ampio parco 5 piscine 2000 metri quadrati di centro benessere ben 4 ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati e poi palestra e tanto altro ancora cogli le nostre offerte scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefono al numero 081 507 01 11 e da oggi caparra 0 e cancellazione gratuita della prenotazione fino a 7 giorni prima dell'arrivo ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza l'isola più bella le 4 stelle più prestigiose per una vacanza davvero speciale Re Ferdinando stupirvi è la cosa che ci riesce meglio L'antica arte della ceramica tramandata da generazione in generazione giunge fino a noi Keramos maestri della creta e professionisti della decorazione realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni realizzazioni personalizzate e su ordinazione dopo il terremoto del 21 agosto da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio la passione per l'arte Keramos la ceramica d'Ischia una lunga storia senza fine pubblicità media in service buono pubblicità agenzia stampa e propaganda dal 1962 nuove idee per l'isola di Ischia Irene Iacono sindaco di Serara Fontana con la sua lista ha battuto l'antagonista Cesare Mattara con un divario di 492 voti l'entusiasmo della vincitrice a Napoli a Napoli vince l'assenzionismo Manfredi verso la vittoria il candidato del centro-sinistra e dei 5 stelle attualmente in vantaggio su Maresca e Bassolino in corso una conferenza stampa lo sport in calcio eccellenza l'Ischia sconfitta a Pozzuoli giallo bleccato in casa della puteolana per 2 a 1 proteste per un rigore assegnato allo scadere ben ritrovati all'appuntamento con informazione di Teleischia ovviamente una edizione che è quasi del tutto dedicata ai risultati delle elezioni amministrative che si sono svolte fino ad oggi ieri ed oggi in diversi comuni della regione cominciamo dal comune a noi più vicino le elezioni amministrative a Serara Fontana iniziamo a vedere la affluenza al voto nella prima giornata di voto quella di domenica si sono recati alle urne il 50,7% degli aventi diritto 39,14% alle 19 e 15,30% alle ore 12 invece poi oggi alle 15 si è chiuso con il 68,22% degli aventi diritto a Serara Fontana gli aventi diritto sono 3.071 divisi in tre sezioni elettorali quella di Serara quella di Fontana e quella di Succhivo questi sono i dati definitivi per quanto riguarda i voti che sono stati attribuiti ai due candidati i dati definitivi che hanno portato come avete sentito già dai titoli e dalla diretta del pomeriggio la vittoria del candidato sindaco Irene Iacono con la lista andiamo avanti per Serara Fontana il totale dei voti 1.257 i parziali per Irene Iacono alla sezione 1 439 alla sezione 2 479 alla sezione 3 339 al suo diretto antagonista Cesare Matera con la lista dell'amico in comune 765 i voti totali nella prima sezione 260 nella seconda sezione 243 nella terza 262 la differenza tra i due sfidanti è di 492 voti a favore del sindaco eletto Irene Iacono e hanno seguito presso il ristorante La Floreana sul benvedere di Serrara all'avvicendarsi dello scrutinio dei voti quando poi c'è stato praticamente la certezza matematica della vittoria vediamo come hanno esultato e noi eravamo lì con la nostra telecamera la vediamo Mentre andiamo in onda i presidenti delle due sezioni la seconda e la terza di Fontana e di Succhivo si stanno recando verso la sezione numero uno di Serrara per ricognungersi col presidente della prima sezione per procedere al controllo definitivo delle varie schede e delle operazioni di voto per poi procedere la proclamazione degli eletti sindaco e consiglieri che secondo quanto si apprende potrebbe avvenire più tardi nel corso di queste ore e della tarda serata ma intanto torniamo alla Floreana torniamo all'esultanza subito dopo aver visto l'esultanza tra i sostenitori e i candidati abbiamo avuto l'occasione con Claudio Iacono di ascoltare le primissime dichiarazioni del neoletto sindaco di Serrara Fontana Irene Iacono sentiamola con le stelle cadenti di Natale una stella assolutamente invece nascente Irene Iacono complimenti per la vittoria ormai sembra insomma che manchi semplicemente la proclamazione sì sono veramente felice di questo risultato i cittadini di Serrara Fontana mi vogliono bene e lo hanno dimostrato ampiamente è stata una campagna elettorale dura intensa tratti veramente difficile ma ecco oggi Serrara Fontana ci ha consegnato la volontà di amministrare per lo sviluppo e la crescita di questo territorio io sono veramente felicissima di questo risultato raggiunto da sindaco spesso insomma in tutte le elezioni si indica l'obiettivo dei primi 100 giorni si indica il raggiungimento di un obiettivo spesso anche simbolico non necessariamente chissà quanto importante anche simbolico cosa ci possiamo aspettare dai primi 100 giorni di Irene Iacono noi dobbiamo assolutamente aprire l'eremo di San Nicola perché quello è il punto che rappresenta tutta l'isola non solo Serrara Fontana quindi il primo obiettivo è quello l'obiettivo l'apertura dell'eremo è impossibile però in un momento del genere impedire alla mente di andare a pensare a una persona a qualcuno cui dedicare questo risultato Irene Iacono a chi pensa? Irene Iacono pensa ad una combattente così come ha dichiarato nell'ultimo comizio una persona che sta combattendo una dura battaglia e che sono sicura la vincerà smaltita la sbornia elettorale diciamo ovviamente non solo alcolica anche emotiva perché la vediamo molto molto coinvolta sì sì una battaglia è stata una battaglia molto densa ricca di emozioni adesso c'è davvero una sbornia emotiva sono felicissima ringrazio tutta la mia squadra ringrazio tutta Serrara Fontana grazie in conclusione quanta rivoluzione c'è in questo voto e quanta continuità c'è c'è tanta rivoluzione perché un sindaco donna è eletto a Serrara Fontana la prima volta e poi c'è c'è la continuità perché amministratore uscente che conosce il terrorio quindi diciamo speriamo veramente di progredire per Serrara Fontana innovando ma anche mantenendo le proprie origini e le proprie tradizioni in conclusione un errore da non ripetere un errore magari della precedente esperienza amministrativa che Irene Iacono cercherà di ripetere ma sicuramente di essere meno riservata perché in questa campagna elettorale mi è stato fatto notare dai cittadini che ero una persona troppo forse chiusa riservata d'ora innanzi dialogo continuo e costante con i cittadini grazie e complimenti ad Irene Iacono complimenti al nuovo sindaco di Serrara Fontana tanta emozione e tanta soddisfazione anche nelle prime parole le prime dichiarazioni del dopo voto dell'ex sindaco ed oggi il consigliere comunale di maggioranza Rosario Caruso che tra l'altro non ha smesso di sottolineare quando sia stata aspra questa campagna elettorale che si è appena conclusa senza esclusione di colpi sentiamo Caruso eccoci Rosario allora abbiamo avuto un problema prima una gioia dicevamo incontenibile beh stiamo sentendo i nostri sostenitori che esultano veramente è stata una bellissima vittoria abbiamo e stiamo conducendo in tutte e tre le sezioni è incredibile perché è stata una campagna elettorale dura una campagna elettorale ahimè piena di colpi bassi e veramente con delle cattiverie dette nelle case che hanno fatto male hanno fatto molto male però sono contento soprattutto per i ragazzi di questa squadra per per questo gruppo veramente delle persone eccezionali hanno lavorato hanno combattuto veramente con con grande con grande passione con grande passione per ottenere questo risultato e sono contentissimo anche per Irene perché dopo 15 anni di esperienza amministrativa ecco corona il sogno di di essere di essere sindaco quindi faccio faccio i complimenti ringrazio ringrazio tutti i cittadini evidentemente ecco la parte silenziosa del nostro territorio della nostra del nostro corpo elettorale già aveva deciso ma non si esprimeva per per una serie di motivi ecco per le pressioni per gli avvicinamenti insomma per tutta una serie di fatti che non sono stati piacevoli quella parte silenziosa è stata determinante e ha dato una risposta chiara secca e inequivocabile Irene Iacono è il nuovo sindaco di Serrara Fontana io lavorerò a fianco di Irene seguendo quello che Irene mi vorrà assegnare come deleghe quindi sarà Irene il sindaco Irene è il mio sindaco quindi assolutamente nessuna nessuna nessun'ombra sulla sindacatura di Irene Iacono Bocche cucite nessun commento sull'altro versante per tutto il pomeriggio durante il corso dello scrutinio ed anche oltre però siamo riusciti nel frattempo ad ascoltare quando le urnerano quando c'era ancora in corso lo scrutinio nella sezione numero 3 di Succhivo uno dei candidati della lista di Cesare Matera l'ex assessore Emilio Giuseppe Di Meglio sentiamo le sue considerazioni soddisfatti del lavoro svolto durante la campagna elettorale che questa volta è stata lunghissima è durata ben 4 forse anche 5 mesi siamo abbastanza diciamo stanchi anche il popolo un po' è stanco insomma dalle testimonianze che ho raccolto diciamo di ascoltare tante parole adesso si tratta di passare ai fatti concreti chiunque vinca insomma l'importante che il comune oggi venga amministrato perché abbiamo passato dei mesi per i motivi che abbiamo spiegato con il commissario prefettizio che per quanto brava sia stata comunque diciamo non poteva certamente sopperire al potere politico certamente quello che abbiamo spiscerato in questi giorni è stato diciamo interessante sotto il profilo delle idee ci siamo confrontati anche duramente e aspramente insomma su alcuni programmi spero tanto che tanti di questi programmi vedano la loro realizzazione indipendentemente da chi li ha proposti una campagna elettorale sudata come dicevate prima però possiamo dire anche con un po' di frizioni certamente le frizioni ci sono state insomma abbiamo avuto delle incursioni da parte non del mondo politico ma dal mondo giornalistico lasciamo diciamo il tempo che trovano avemmo preferito veramente tanto parlare solo di programmi ma come dire dalle parti nostre insomma è facile scivolare un po' anche sugli aspetti un po' più folcloristici tante volte magari la popolazione le chiede pure insomma durante i comizi questo tipo di diciamo di atteggiamenti di modi di parlare di modi di fare l'importante ripeto e che poi di questi programmi che abbiamo tanto lavorato per mettere insieme resti qualcosa e soprattutto l'impegno di realizzarli dunque come vi dicevo dovrebbe essere prevista in serata la programmazione degli eletti a Serrara Fontana nella sezione numero 1 di Serrara noi vedremo come andrà intanto andiamo a Napoli per le elezioni innanzitutto l'affluenza è un'affluenza scarsa infatti sembra aver vinto l'assenzionismo infatti hanno votato il 47,19% dei cittadini mentre nella prima giornata di voto domenica aveva votato il 33,72% alle 19 aveva votato il 25,42% a mezzogiorno invece il 10,15% a Napoli sono 776.751 di elettori divisi in 884 sezioni vediamo un attimo allo scrutinio che è ancora in corso mentre vi parliamo in corso una conferenza stampa del professor Manfredi questi sono i dati che sono scadati scrutinati fino a qualche minuto fa al professor Manfredi 54.891 voti pari al 65% a Catello Maresca 17.959 voti pari al 21% Antonio Bassolino 6.147 voti pari al 7% Alessandra Clemente 4.737 voti pari al 5,6% Matteo Brambilla 626 voti 0,7% Giovanni Moscarella 370 voti 0,4% Rosa Solombrino 239 voti 0,28% e come vi dicevo è in corso una conferenza stampa del professore Manfredi ma intanto noi abbiamo avuto per tutto il pomeriggio un collegamento dalla prefettura e il nostro collega Marco Altore che si è spostato nel frattempo alla sede del comitato elettorale del candidato Manfredi nella zona della stazione centrale ci colleghiamo allora con Marco a te la linea prendiamo la linea qui dal comitato elettorale di Gaetano Manfredi e con me Graziella Pagano la coordinatrice di Italia Viva a Napoli allora una battuta ma Gaetano Manfredi il nuovo sindaco sì con soddisfazione che direi che Gaetano Manfredi non è più il candidato sindaco ma il nuovo sindaco con un risultato assolutamente soddisfacente al di là di ogni aspettativa per la verità vuol dire che sostanzialmente ha centrato l'obiettivo attraverso uno stile moderato parlando dei problemi e avvicinando pezzi di città con i quali ha colloquiato in maniera sobria ed efficace conferenza stampa in corso presenta anche il governatore De Luca importante anche il suo sostegno certo noi abbiamo sperimentato diciamo una coalizione larga già alle regionali che naturalmente si è ripetuta arricchita dai 5 stelle anche in questa tornata elettorale la coalizione ha tenuto ha lavorato bene in sintonia ovviamente questo ha pagato con il risultato che abbiamo sotto gli occhi vi aspettavate una vittoria così schiacciante anche al primo turno io ho sempre pensato che Gaetano fosse in sintonia con la città diciamo anche prima di diventare sindaco lui ha fatto egregiamente il manager il rettore che è un vero manager della cultura e non solo ed un'azienda enorme come l'università Federico II quindi sostanzialmente aspettavamo che Gaetano sapesse cogliere diciamo quello che la città aveva bisogno quindi sostanzialmente penso che sia un risultato meritato e un risultato molto voluto da tutta la coalizione soddisfatta anche del risultato afferente insomma alla sua formazione politica sì stiamo vedendo risultati non mi voglio come dire sbilanciare però credo che la lista nostra diciamo azzurri per Napoli Napoli viva raggiunge un ottimo risultato se si pensa che è uno sperimento politico fatto in pochissimo tempo voluto fortemente da molti di noi e che ad oggi in questo momento i dati ci dicono che è sopra il 5,5% quindi ci attestiamo tra le prime liste della coalizione lei è stata senatrice esperienza amministrativa questi sono 5 anni importantissimi per la città di Napoli e non solo perché bisogna spendere tutti e bene i fondi europei sì questa è una grandissima sfida e secondo me diciamo il treno che non si può perdere perché se noi vogliamo veramente dare una svolta alla città abbiamo bisogno di competenze di rigore e di partecipazione di tutti i cittadini ad una svolta veramente epocale perché noi avremo moltissimo da spendere su progetti seri progetti credibili progetti che devono andare in porto rapidamente per dare un segno di cambiamento alla città un'ultima domanda Gaetano Manfredi durante la campagna elettorale gli incontri con la stampa parlava sempre di città metropolitana e turismo con l'obiettivo di creare un'offerta turistica integrata lei conosce molto bene anche l'isola d'Issi cosa ne pensa di questa idea io credo che il turismo debba fare un salto di qualità soprattutto per la città metropolitana perché sostanzialmente noi abbiamo diciamo un turismo abbastanza precario nel senso di un morde e fuggi in città e quindi abbiamo bisogno di un'integrazione noi abbiamo intorno diciamo delle perle bellissime tra cui Ischia lei sa che sono molto affezionata insomma di Ischia siamo ischitani come dire di elezione e credo che si possa fare veramente moltissimo soprattutto penso che per esempio Ischia debba insomma essendo una sede termale importantissima nel mondo debba essere come dire per Ischia e per altro un turismo tutto l'anno diciamo perché è un turismo termale un turismo di bellezze non solo naturali ma anche diciamo culturali per cui sostanzialmente la campagna deve diventare punto di riferimento culturale e diciamo paesaggistico di un turismo di qualità e di selezione ringraziamo Graziella Pagano coordinatrice Italia Viva Napoli linea allo studio bene grazie a Marco Altore noi torneremo sulla questione delle elezioni a Serra Fontana ed anche a Napoli nelle prossime edizioni intanto cambiamo argomento ci occupiamo del mal tempo infatti la protezione civile della regione campania ha informato che la perturbazione in atto sulla Liguria secondo l'evoluzione prevista dai modelli matematici transiterà lungo la fascia tirrenica per raggiungere la nostra regione a partire dalle prime ore di martedì mattina quindi la protezione civile regionale ha emanato un avviso di alerta meteo di colore giallo con rischio idrogeologico localizzato valevole a partire dalle 6 di martedì mattina fino alle 6 di mercoledì mattina ed ora il coronavirus con il consueto bollettino aggiornato dei contagi sul territorio nazionale oggi 4 ottobre i nuovi contagiati sono 1.612 totale attualmente positivi è 92.096 con una crescita di 871 assistiti deceduti sono 37 il totale sale a 131.068 numero complessivo di dimessi e guariti sale a 4.460.482 con un incremento di 2.446 persone tra gli attualmente positivi 437 sono in cura presso le terapie intensive con un incremento di 6 pazienti 3.032 persone sono ricoverate con sintomi con un incremento di 41 pazienti infine 88.627 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi ed ora la situazione in Campania dove oggi si registrano 163 nuovi contagi su 5.941 tamponi molecolari eseguiti nell'ultimo rapporto dell'unità di crisi si registrano 7 deceduti di cui uno nelle ultime 48 ore in Campania sono 17 pazienti covid ricoverati in terapia intensiva mentre sono 209 quelli ricoverati nei reparti di degenza ed ora la pagina sportiva del lunedì con il calcio in eccellenza l'ischiacalcio cade in casa della puteolana per 2 a 1 proteste dei gialloblè per il rigore assegnato ai padroni di casa allo scadere allo stadio Conte di Pozzuolo l'ischiacalcio è passata in vantaggio ma viene rimontata poi dalla puteolana decisivo il rigore al novantesimo ischitani in consueto completo gialloblè e timo fegreo in maglia amaranto con pantanucini neri ma andiamo in campo e vediamoci la sintesi puteolana ischia terza giornata del campionato di eccellenza puteolana subito in avanti mazzella non legge benissimo questa palla però per sua fortuna va sul fondo filosa qui colpisce il palo poi la palla colpisce maiellaro de luise mette dentro ma è la posizione irregolare di massimo de luise qui bello schema della puteolana che però conclude alto calcio d'angolo per l'ischia di costanza si trova la palla sul ginocchio e maiellaro la blocca poi grezio mette in mezzo e c'è la grande parata di mazzella punizione di marigliano palla alta ancora la puteolana ancora mazzella a mettere in angolo inizia il secondo tempo con un grande guizzo di castagna che mette dentro e porta il giallo blé in avanti bellissima la giocata di luigi castagna punizione per la puteolana evacuo calcia trova sardo sulla linea di porta e mette dentro tante le proteste dell'ischia qui per una posizione irregolare ma vediamo che c'è di costanzo vicino mazzella ed è l'unico che non protesta ancora puteolana in avanti con questo tiro al volo mazzella non blocca ancora grezio palla in profondità per guarracino posizione irregolare vediamo che guarracino è leggermente al di là di chiariello dopo il gol del pareggio gli ospiti sempre in avanti qui c'è un fallo giudicato dal direttore di gara calcio di rigore di costanzo a terra evacuo un po' dubbio anche se di costanzo alza le gambe e si presenta grezio contro mazzella parte grezio infila la palla nell'angolino mazzella aveva indovinato l'angolo ma non ci è arrivato e finisce qui la potenana batte l'ischia 2 a 1 e queste erano le azioni principali così come si è giocato in campo ma adesso ci trasferiamo al dopo partita ascoltiamo i commenti di entrambe le formazioni siamo con il presidente della puteolana Pietro Di Costanza allora Pietro una vittoria sofferta fino alla fine ma abbiamo visto comunque in campo una buona puteolana sì oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra veramente tosta complimenti anche loro perché c'è da fare complimenti anche alla squadra avversaria ma noi abbiamo dimostrato che ci crediamo fino al novantesimo e con l'aiuto dei nostri tifosi la puteolana diventa sempre più forte infatti oggi c'è stata una gran bella cornice di pubblico sì sì piano piano stiamo credendo in noi credendo nel progetto che stiamo creando e speriamo di rivederli sempre più numerosi ogni domenica qui però c'è una dedica particolare per questa vittoria ieri è stato il compleanno del presidente sì sì questa vittoria è dedicata a mio padre che gli era compiuto gli anni questa vittoria è tutta per lui e anche perché era la festa del nonno quindi era anche la sua festa tu l'hai fatta anche diventare nonno è stato un doppio auguri è stato un doppio auguri siamo con mister Sasamarra allora mister hai messo l'artiglieria pesante nel finale per cercare di sbloccare questo pareggio ci sei riuscito poi con Orazio Grezio ma alla fine una vittoria meritata sì assolutamente anche perché la squadra ha sempre cercato di fare la partita loro erano organizzati nel chiuderci le nostre giocate e poi ripartire su eventuali nostri errori diciamo che ero arrabbiato il primo tempo perché non siamo riusciti a capire bene la partita che dovevamo fare secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa anche perché eravamo sotto e diciamo che era una cosa che avevamo preparata ieri con i tre davanti e cercare di saltare il centrocampo dove non ci faceva giocare è stato bravo e vacuo in queste situazioni e lo stesso Guardacino e Grezio con Gioielli dietro nel sacrificarsi quando loro c'erano la palla dopo partita futura siamo con il direttore sportivo dell'Ischia Mario Lubrano una partita giocata bene dall'Ischia poi alla fine è arrivato il calcio di rigore che ha condannato alla sconfitta Sì sì complimenti ai ragazzi complimenti all'allenatore per come hanno preparato questa partita avevamo qualche defezione importante però ce la siamo giocata in casa di una delle squadre tra le stragrande favorite di questo campionato alla fine eravamo passati in vantaggio peccato per come sono arrivati questi due gol perché voglio rivederli ancora non c'è stato il tempo il primo mi sembrava in fuorigioco il secondo in rigore è un'azione coincidata vediamo un po' poi le immagini cosa ci diranno Mister una partita importante da parte dell'Ischia qui in trasferta a Pozzuoli partiamo dal finale momenti coincidati proteste ma soprattutto qualche perplessità vostra sul calcio di rigore Beh sì a me non piace parlare di queste cose però è ovvio che poi al 95esimo quando la partita si è indirizzata secondo noi secondo me però sono uno a uno che poi poteva essere anche giusto dal punto di vista di quello che ha mostrato la gara vedersi tra virgolette defraudati di un qualcosa che era legittimo su un qualcosa che secondo noi non era assolutamente da fischiare visto poi il metro di giudizio che l'arbitro ha ottenuto in tutta la gara dove è stata una partita maschia da entrambe le parti quindi diciamo che è stato alquanto anomalo visto tutto l'andamento del modo arbitrale tutto qua abbiamo visto dalla tribuna anche qualche fischio mancante per l'ischia arbitraggio un po' casalingo non direi di casalingo ma direi comunque un arbitraggio che aveva deciso di fare una linea del genere e noi diciamo nelle palle mezze e mezze erano tutte punizioni loro comunque noi non abbiamo mai avuto una soddisfazione tra virgolette di riprendere fiato in qualcosa che poi magari abbiamo costruito anche la punizione magari di Riccardo Montanino poteva essere un attimino evitata ma vabbè andiamo avanti diciamo così e abbiamo da prendere tanto 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 di buono dobbiamo secondo me fare i complimenti di tutti quanti come hanno fatto i tifosi dagli spalti che ci hanno veramente ringraziato della grande prestazione fatta dai ragazzi e dobbiamo prendere questa cosa come dicevo adesso negli spogliatori dobbiamo ingoiare il veleno e dobbiamo prendere tutto questo come motivazione per le prossime gare bene ed ora dopo lo sport spazio al meteo vediamo che tempo farà sulla nostra regione previsione per domani al mattino sulle coste nubi e schiarite con possibili fiovaschi in montagna schiarite con transito di velature sparse nel pomeriggio sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita in montagna cieli coperti con piorge e temporali dunque il maltempo imperversa in conclusione vi ricordo sulle elezioni Irene Iacono è il nuovo sindaco di Serrara Fontana mentre a Napoli Gaetano Manfredi vola verso la vittoria al primo turno di questo ci occuperemo sicuramente con altri commenti e risultati nell'edizione delle 14 arrivederci a